Incidenti pericolosi in moto, così visto che io copro la moto, Graziana si fa sicura Per la mia gioia stiamo registrando questo video Via! Ok qui c'è uno che sta praticamente andando in moto, lui mette la freccia a sinistra, sta per girare, si ferma e il povero motociclista va Vabbè ma è demente il motociclista Ma scusami Graziana se metti la freccia e tu ti fermi in chiodi Ma scusami ma forse stava uno stop Ma a parte che aveva rallentato abbondantemente Vabbè però l'aiuta, l'aiuta Ma ha ragione l'auto? Senti ditecelo nei commenti, secondo me forse si Ha ragione l'auto? Vabbè vediamo quest'altro Questo sta andando a sett... Oh! Ha stelzato Bruno! Oh mio Dio! Guardate là! Da solo? Da solo perché se perdi l'equilibrio può capitare, cioè potrebbe capitare anche a me volendo, spero di no Scusa ma quante telecamere aveva addosso? Eh aveva un po' di telecamere, però ce l'è andata bene Ha stelzato un po' troppo ed è caduto, può capitare Però ride Perché è un cappello da Bobo Natale? Non lo hai prenduto Cioè è un casco da Bobo Natale Attenzione quest'altro! Curva! Ora cade la curva Ho già detto che ha ansia Ora cade la curva, lo vedo, sta piegando troppo, sta piegando troppo ragazzi Guarda, secondo me è quello davanti Cade, cade, raga, sta piegando troppo Guarda sulla sfa, sulla briciolina Aia! Io infatti quando vedo queste cose sto molto attento Quando c'è la briciolina ragazzi se avete la moto non correte mi raccomando È meglio andare più piano che poi la rovinate la moto cadendo Di nuovo briciolina, scommetto tutto Oddio, come ha fatto? Come? La moto poteva cadere giù, guarda! Oh mio Dio Attenzione quest'altro Sto per avere un attacco di panico Attenzione parte, parte Questo che cosa succederà? Dai non penso che cade così È impossibile La macchina non si ferma! Oddio Ti prego, non voglio vedere queste cose Non voglio vedere queste cose Non voglio vedere queste cose Oh Madonna Vabbè questo mi pare che sta solo consiglio di emergenza Ora non sono un esperto di Oh Madonna Meno male che andava piano Ha frenato perché c'era la buca Ma tu lo sai che facciandomi vedere questi video Non mi stai rassicurando? Oddio Scusate Miella voglio rivedere un attimo Come ha fatto? È andato lui con Oddio però grazie a me Stava al centro strada Sia lui che il camion Non stavano tutti e due al centro strada Quindi diciamo che metà è metà lo sbaglio Anche se il camion forse ha invaso proprio la corsia Povera moto Madonna Che cosa è un'altra? No non riesco a capire Ah c'è scritto Royal Rider Guarda qua Era lui Ha preso la parte finale Attenzione qua stanno tirando un po' tutti Tirano Chi cadrà? Lui va più piano perché è più intelligente forse Nella curva Attenzione sono passi in curva Valentino Rossi ora sta accelerando Il rossio Ehi come moto Quando venrai come moto Tutti la curgerai Non c'erò mai Nel 3000 vengo Eh vabbè però sei tu figlio mio Cioè guarda che ripartito Ci può stare Può capitare Però Ah l'ha preso No non l'ha preso la moto La macchina Che è caduta da solo Ok Madonna queste stanno facendo già di scelta Io lo sapevo Guarda che se ne va l'inghiff Guarda che se ne va l'inghiff Genio Guarda la moto Guarda la moto A me ti spiega più per la moto Che per loro Perché sono stupidi Cioè Ha distrutto una moto Guarda il fumo Mio Dio Quella povera moto R1 così La stenta la mia Certo no Mi spiega Perché se poco poco C'è la benzina Si fuca tutto Però c'è una forza Per la torta Ma però non si è abbaccata Eh si è Attenzione Questa è andata veloce Non riesco a capire a quanto Ma sta andata abbastanza veloce No no Non posso vedere queste cose Chi cade Chi cade Cade lui Perché l'ha presa malissimo La curva Madonna Cioè Voi ci pensate Se Si è alzato subito Che è di gomma Come va a fare Ci pensate Una macchina da dietro Cioè E' finita E' finita E' sempre l'R1 qui Ecco qua Guardate nella curva Spam Si però Madonna Santa Ma Graziana Non credo possa succedere Niente cosa del genere E si tira i piedi Con una mano Che Però Pagliaccio Oddio Sulla briciolina No Madonna Ma è caduto Quello davanti Eh non so perché Ah Spesate perché avete messo La freccia Quell'altro Eh vabbè Sulla briciolina È stronza Ragazzi Qua sta impegnando Guardate qua Guardate qua Guardate qua Guardate qua E ciao Ma perché vedono pure video Madonna Graziana Questo stava senza pantaloni Puoi capire il male Che C'è i pantalincini corti Comunque L'adrenalina è brutta Perché ti rialzi subito Cioè Guarda qui Spam Male Molto male Questo l'ho fatto oggi La stessa curva più o meno Questa Però Oddio Oddio Dolor de cabeza Eh vabbè Tutti e due Sono caduti Tutti e due Che siano terrorizzato Dopo questo video Sono rimasta pulita prima Guarda Quello davanti Guarda quello davanti Questo qua Spium Spium Evidentemente era bagnato Ora Vi faccio vedere Uno Che usa la mia stessa moto Che cosa è successo Grazie Guardate Grazie Guarda Quella verde è la mia moto Praticamente Solo che è verde Guarda Così mi fai Poi puoi stare tranquilla Quando prendi la moto Io non farò mai questa cosa Perché lui è un genio Pura No no Lui è un genio Lui Aspettati il peggio Per cinque Vediamo Bella bro Aspetta Ma è pericoloso La maggior parte di quelli Che cadono Non sono Per le impennate Eh ma il problema Che su queste strade C'è la pricciolina Ma ma volete pure un caffè Tutte su C'è la mano La metti La trama non la Guardate Guardate con attenzione Sale sulla moto Attenzione ragazzi Si sale sulla moto Equilibrista Ma sei un demente E ti faccio vedere Tra l'altro Per la regia Guardate qua Si è appena giocato i figli Per tre generazioni No anzi Per nessuna generazione Beh almeno Almeno Pam Mi dispiace ridere Però Sare cercata Con la rea muto Oppure se nascono figli Spero che non siano cretini In quanto il padre Quindi ragazzi Lasciate un bel like Se volete Delle altre reazioni Sempre due volte A settimana Su questo canale Spero che non riguardino Le moto Nel prossimo video Nel prossimo video Se volete Le moto Scriveteci Ciao raga Ciao